Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Allora ragazzi, oggi per festeggiare lo speciale 700 iscritti Abbiamo con noi il DVD del Re Leone E' una mega busta Nature Direi, iniziamo dal Re Leone Allora ragazzi, questo qua è il DVD Poi quest'altro è incartato E apriamo la nostra busta Nature Vediamo che cosa troviamo dentro Allora ragazzi, abbiamo trovato tantissime cose fighe Allora abbiamo trovato questa bellissima rivista In cui ci sono tante cose sul regno animale Poi dei poster Questo Questo Gli insetti non si schiacciano Infatti ragazzi, è importante non schiacciare gli insetti E abbiamo varie buste Io direi, iniziamo ad aprire questa Dell'Australia Oh mio Dio, che cos'è? No vabbè ragazzi, abbiamo trovato l'Ornitorinco Poi apriamo Poi apriamo quest'altra Dei Nature volatili Cos'è? Aspetta, mi sa che questa dovrebbe Dovrebbe essere l'Aquila Sì, questa è l'Aquila Sì, questa è l'Aquila ragazzi Infatti, abbiamo trovato l'Aquila Poi abbiamo un'altra busta Apriamola Uh, è un insetto giallo Che figo Allora, ora vi faccio vedere il magazine Ok, vediamo il magazine Allora, nel magazine abbiamo gli insetti Poi lo Scarabeo Rinoceronte Che è molto bello Tutta la collezione Questa La mosca E basta Va bene ragazzi Il video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao